Bella ragazzi e per non farci mancare niente voglio concludere la domenica con un video un po' più piccante ne ho già fatto uno oggi sullo scambio probabile di Danilo tra Danilo e Cancelo, tra Juve e Man City ve lo lascio in alto a destra nelle schede e recuperatelo ma siamo qui per parlare di un fatto abbastanza grave, passatemi il termine che è successo stamattina riguardante il mio youtuber preferito Sickwolf, Simone Filippone mi sembra si chiami così non mi ricordo, Simone sicuramente, vabbè, comunque gli faccio gli auguri che ha compiuto 23 anni non sembra che a 23 anni sia, ma lasciando da parte l'aspetto fisico ci mancherebbe uno non tutti hanno la barba e tutto, però proprio come si approccia su Youtube poi quello che ha fatto stamattina mamma mia, allora, ricapitolando, stamattina sono andato a cercare Sickwolf su Youtube perché io appunto non essendo iscritto non mi arrivano le notifiche ovviamente però a volte sono curioso di vedere cosa fa, i video poi non li guardo quasi mai però mi basta solo vedere il titolo, vabbè, apro, cerco Sickwolf e vedo che ha fatto un video in cui titolò, adesso non mi ricordo precisamente il titolo, mannaggia avessi fatto lo screen, i commenti e tutto ma mi sono dimenticato, per pigrizia non l'ho fatto, comunque era un titolo tipo clamoroso, vergogna Bappé spinge Neymar via dalla foto di squadra, una cosa del genere perché cos'è successo? Nella premiazione della Supercoppa Francese tra Rennes e Paris Saint Germain vinta dai parigini, ovviamente, Bappé per scherzare, sembra, almeno, poi anche su Instagram il brasiliano Neymar ha chiarito, ha detto, mio fratello, diciamo, era solo uno scherzo Bappé ha spinto Neymar fuori dalla foto di squadra, si sa che Neymar vuole andare via da Parigi non sta bene a Parigi, ma io avevo sentito anche nei giorni scorsi che Mbappé lo stava provando a convincere a restare perché Bappé comunque vuole vincere a Parigi e ovvio perdendo Neymar il Paris Saint Germain perde tanto il Paris Saint Germain che poi quest'anno, sì, qualche colpo l'ha fatto, si arrabbia e altri però non ha fatto un mercato altisonante come gli scorsi anni, quindi Bappé magari ha anche paura di perdere un giocatore come Neymar che sì, è un po' falciato degli infortuni secondo me non è un giocatore decisivo, però è sempre un grande giocatore, ci mancherebbe e Sequelf ha fatto questo video senza informarsi a dovere come fa sempre, ragazzi ne ho parlato giusto anche in un video di ieri che non era riferito a Sequelf ma cosa dicevo nel video che ho fatto ieri? che ho notato che ultimamente sto facendo tutti i video di 2, 3, 4 minuti molto veloci molto buttati a cazzo di cane, magari vedo qua fatti anche in location abbastanza incasinati magari col telefono così anche un po' sbilanciato e tutto sta un po' sedendosi secondo me, perché lui vede che buttando anche video così fatti a cazzo di cane fa comunque dei numeri, numeri che vedo non sono altissimi però comunque i suoi numeri li fa sempre, ci mancherebbe e allora dice perché mi devo impegnare a fare un video, magari un'analisi tattica di un giocatore un'analisi tecnica in cui mi devo informare, stare lì ore e ore o comunque minuti a informarmi quando io magari sparando due cazzate faccio lo stesso 30, 40, 20, 50, 1000 visual e in quel video lì lui praticamente io non l'ho visto però perché l'ho stoppato perché mi dà proprio fastidio sentirlo parlare, mi spiace però è così vado a leggere i commenti, tutti insulti anche commenti abbastanza insulti vabbè alcuni erano insulti e lì è sbagliato però alcuni commenti abbastanza ironici e tutto no tipo uno ha detto sono Simone Filippone, guardo una notizia e ci faccio subito il video tipo una cosa così no sono uno youtuber semplice, apro Sport Mediaset e alla prima cazzata ci faccio un video cioè commenti del genere no cioè commenti che fanno capire che diciamo tutti hanno capito com'è questo youtuber cioè un anno fa quando io ho iniziato a dissarlo che poi l'hanno fatto anche tantissimi altri youtuber Sequelfer è intoccabile infatti se andate a vedere i miei primi video contro Sequelfer sono 80% insulti e 20% che mi danno ragione no è così ma io i video non li ho mai cancellati perché sono video in cui credo che mi piace fare quindi anche se tutti mi danno contro come dire non li cancello perché sono diciamo sicuro di me ok sono convinto di quello che dico quindi non mi interessa cosa pensano gli altri lui si vede che non è così non è così sicuro perché ha subito cancellato il video infatti magari non tutti l'hanno visto, hanno letto i commenti ma tanti so che l'hanno fatto infatti mi hanno anche commentato nel video che ho realizzato qualche ora fa su Canselo e Danilo mi hanno detto vai a vedere i commenti gli ho detto eh ormai il video l'ha tolto e quindi è così e appunto dicevo l'anno scorso Sequelfer era intoccabile ora grazie anche a me, grazie a tutti molta gente ha aperto gli occhi cioè ha sempre il suo seguito però io ho notato che sono più quasi le prese in giro che riceve che i complimenti o comunque tanti gli dicono sì sei simpatico sei carismatico è tutto ma competenza diciamo di sodo nei tuoi video c'è poco di sostanza c'è poco alla fine ok perché si vedono che sono video veramente buttati lì cioè adesso vedo qua i titoli Godo Malcom Allo Zenith sì il classico video di cui fa finta di Godo che tanto cosa gliene frega cioè sono video molto buttati lì cioè io non vedo un video in cui tu mi fai un'analisi un po' più approfondita di una squadra o di nuovo acquisto niente il classico sfogo perché lui tutte le volte che arriva un difensore c'è un acquisto nel mercato che costa tanto lui sempre i soliti video adesso basta su Maguire sono senza parole 95 sempre così lui potrebbe fare il copy and call di tutti i video che fa quando avviene un acquisto sopra gli 80 milioni che tanto dice sempre le stesse cose scontato come pochi poi ste copertine con ste facce veramente forzate che boh vabbè da scemo siamo uno scemo sinceramente cioè io vedo uno così che fa così siamo uno scemo cioè con gli occhiali con gli occhi chiuditi così cioè ma che vabbè va bene poi qua mezzo nudo che fai video così una copertina così va bene poi anche qua adesso vedo qua il mercato che farei agosto cioè praticamente a inizio campionato tu fai il mercato che farei costruiamo un'utinese da Europa League e in copertina mi metti Cavani e Milico io questo video non l'ho visto ma so già perché lo conosco che nel video tanto non ci saranno Cavani e Milinkovic cioè a parte che è irrealizzabile che li compri però ci sta magari tu dici ma si vendiamo tutta la squadra e compriamo Cavani giochiamo solo con Cavani però so che li mette solo per clickbait perché uno vede Cavani e Milinkovic lo apre il video cioè dice cazzo cosa succede boh e invece cazzate poi fagli a giugno no sti video programma li fai una serie ogni giorno fai uscire una squadra non che uno lo fai adesso poi l'ultimo che ha fatto mercato che farei bisogna andare indietro di un mese boh comunque video proprio buttati a cazzo di cane e tutto perché poi si è etichettato come lo youtuber che parla di tutte le squadre che si impegna tanto ma dove ragazzi cioè sinceramente a fare un video di 3-4 3-4 5-3-4 minuti cioè quanto ci mette i video che fa lui ci mette 3 minuti cioè un video di 3 minuti lui 3 minuti tac fa la copertina ma di tanti video non la fa neanche comunque sono copertine molto che ci mette un secondo a farle perché lo so le faccio anch'io e anzi io le faccio meglio e poi butta il video quindi sinceramente fare anche 3 video al giorno ma che sommando i 3 video arrivano a 10 minuti non è che sia un gran lavoro poi sono video ripeto non sono analisi tattiche tecniche che ti devi informare quindi poi ripeto non è anche sicuro di sé secondo me perché lui ha fatto questo video su un bapè nei mar senza informarsi perché lui avrà aperto la sua app di merda OneFootball magari aveva visto la notizia ma sì facciamo il video perché sono notizie del cazzo alla fine io non ci farei mai un video su quelle notizie lì a meno che magari non riguardi la mia squadra Lazio però lui ha detto sai una cosa un po' clamorosa magari fa le visual però informati almeno informati un po' di più cioè voglio dire qua siamo proprio alla base c'è uno youtuber che hai 350.000 iscritti quindi sei non per me ma diciamo un po' il top tra gli youtuber calcisti che numericamente solo numericamente hai anche qualche responsabilità secondo me portare un prodotto di un certo tipo cioè non puoi farmi un video veramente così disinformato ma ripeto lui più o meno tutti i suoi video sono così e infatti tutti giustamente hanno sbagliato chi l'ha andato a insultare sul personale ma chi gli ha fatto notare comunque anche un po' ironicamente che su youtube ci sta che ha sbagliato e lui mi cancella il video cioè capisci vuol dire che veramente non sei convinto di quello che fai cioè se lui avesse fatto il video mettiamo che non la gente non l'avrebbe criticato per qualche strano motivo lui l'avrebbe lasciato magari faceva anche tante visualizzazioni e era contento nonostante avesse fatto un video a cazzo di cane invece sono arrivate le critiche giustamente e lui è ostaggio di queste critiche quindi lui non sa sostenere le critiche perché io ho tantissimi video che ci sono insulti ma sul personale ma non li ho mai cancellati tanti mi sono arrivati anche messaggi in privato di insulti ma mi è dispiaciuto perché ci mancherebbe non mi piace essere insultato è ok però ripeto sono video in cui io credevo che ero convinto li ho lasciati adesso ragazzi sta arrivando anche una luce che sembro illuminato perché ho le persiane mezza chiuse ma entra un raggio di sole vabbè niente comunque diciamo che il mio pensiero l'ho espresso e arriverà domani penso video su Badel che dovrebbe ormai andare alla Fiorentina in prestito però poi ne parliamo domani domani lavoro al pomeriggio quindi il mattino registro il video e ve lo metto magari alle 13 o alle 2 adesso vediamo un attimo e niente vi rinnovo appunto di vedere il video che è uscito oggi su Canselo e Danilo e poi una cosa ho attivato le donazioni ho attivato le donazioni c'è il link in descrizione se volete fare una piccola donazione per migliorare il canale ragazzi semplicemente perché io vi dico la verità su YouTube io guadagno pochissimo pochissimo ma non è anche il mio interesse cioè voglio dire io ho un lavoro oltre a YouTube YouTube non è il mio lavoro fosse il mio lavoro magari sarebbe più un mio interesse sicuramente no quindi il guadagno è una cosa secondaria a me piace fare video al di là del guadagno però per migliorare il canale un apporto in più vostro magari mi fa piacere ma io ripeto non donatemi se volete ci mancherebbe cifre già sopra i 10 euro no 2 euro 3 euro perché per esempio adesso io ho un treppiedi che mi si sta rompendo infatti chi ha seguito i miei video in questi giorni ha visto anche adesso sta un po' calando quindi per esempio un treppiedi non costa tanto io sto qua l'ho pagato poco ma abbastanza non dico scrauso ma niente di speciale e magari posso comprarmi un treppiedi migliore e appunto per ripeto migliorare il canale alla fine è una cosa che è per voi cioè questi soldi alla fine li investiti in una cosa che poi guardate ma ripeto basta un euro due una cosa del genere poi ripeto non siete obbligati ci mancherebbe io ve lo lascio è una cosa che ho deciso di fare liberamente se vi piace il mio prodotto se vi piace seguirmi se volete che continui che porto anche sempre più video perché se non tante queste ultime settimane sto portando un video al giorno minimo e quindi ecco vi invito appunto a donare trovate il link in descrizione e ovviamente seguitemi su Instagram il link è sempre qui sotto ciao ragazzi esprimete il vostro pensiero qui sotto nei commenti like al video condividete iscrivetevi al canale ciao ragazzi bella